Consigliere Pignoli, questa mattina in conferenza stampa presentate questo interessante progetto Udc in tour per i quartieri di Pescara. Andrete ad incontrare i cittadini e ad ascoltare le istanze della cittadinanza. Sì, siamo al giro di Boa, come si usa dire, quasi a metà mandato, per cui è necessario, come si prevede qualche rimpasto in giunta, è necessario fare anche una roadmap all'interno dei quartieri. Quindi io, il consigliere, l'amico Berardino Fiorilli, con l'assessore di inizio che rappresenta l'Udc in giunta e ha la delega all'ascolto del disagio sociale, nei prossimi giorni ci recheremo nei vari punti del quartiere, partendo da quelli più disagiati, quindi Via Lago di Borgiano, Via Lago di Capestrano, Via Caluri per Servizio, I Colli, Zanni, Marina Sud, Marina Nord e perché no anche il centro. Per cui per verificare lo stato dell'arte della situazione, sia per quanto riguarda l'aspetto relativo al sociale, che a noi c'è tanto a cuore, sia anche per quanto riguarda l'aspetto dei lavori pubblici, della viabilità, della ordinaria manutenzione per quanto riguarda la potatura delle piante, eccetera. Quindi, come dire, è la politica che si avvicina al cittadino. Noi abbiamo da sempre avuto come finalità questo tipo di indicazione, anche rispetto all'azione politica che svolgo quotidianamente all'interno del mio ufficio come ascolta e aiuta le persone bisognose. Questa volta interverrà il collega Berdino Fiorilli e l'assessore di inizio che rappresenta, come dicevo prima, l'Udici in giunta e che è la delega dell'ascolta del salgio sociale perché poi, ovviamente, nel redicendo bilancio del 2022, sicuramente potremmo apportare, sentiti i cittadini, delle modifiche ulteriori. Assessore, è un'importante iniziativa perché andrete anche a toccare con mano quelle che sono le problematiche che si vivono nei quartieri, soprattutto della periferia di Pescara. Sì, soprattutto siamo qui per questo. Il nostro capogruppo, Massimiliano Pignoli, che, come sappiamo tutti, ci tiene all'importanza di sentire il cittadino. Quindi io, come assessore, insieme al consigliere Berardino Fiorilli e Massimiliano Pignoli, insieme a loro ascolteremo tutte le problematiche perché noi dobbiamo lavorare, non ci dobbiamo mai dimenticare che la politica deve lavorare per i problemi della gente e quindi siamo qui per risolverli. Direi che questo deve essere un legame costante e quotidiano e di fatto lo è, ma qualche volta è necessario andare incontro alle esigenze della città, cioè scendere, uscire dal palazzo, non soltanto accogliere nel palazzo. Lo facciamo, direi, quotidianamente perché ognuno di noi vive la città. Pescara è vissuta, ogni giorno la giriamo fondamentalmente, ma è importante farlo anche in maniera più istituzionale, quindi fare delle visite mirate ad occhio in modo tale che anche il cittadino che magari non riesce ad incontrarci per varie ragioni può rappresentarci quelle che sono le istanze. Credo che questo sia un ottile contributo alla Giunta, a tutto il Consiglio Comunale per portare quelle istanze che provengono dalla città e che sono poi rappresentate in Consiglio Comunale.